ciao io sono roberta e benvenuti in questo video oggi 27 gennaio ricorre quella che tutti noi conosciamo come la giornata della memoria nata per commemorare le vittime dell'olocausto in ricordo di quel 27 gennaio 1945 quando il campo di concentramento di auschwitz venne liberato dalle truppe dell'armata rossa questo giorno però serve non soltanto per sensibilizzare la memoria condivisa ma anche per comprendere affinché questa sensibilizzazione non sia frutto soltanto di un'emulazione collettiva ma nasca appunto da una presa di coscienza di quello che è storicamente accaduto tre libri più famosi e citati quali manifesto di questa giornata ci sono sicuramente libri come il diario di anne frank oppure le testimonianze di primo levin se questo un uomo o la tregua libri testimonianza molto forti e ancora oggi nascono dei libri di testimonianza di uomini e donne che sono stati ai tempi deportati nei campi di concentramento e che solo adesso sono riusciti a parlare di questa enorme tragedia oggi vi propongo cinque libri che magari sono meno sentiti meno conosciuti meno affrontati ma che secondo me sono diciamo utili per comprendere da un punto di vista in maniera più approfondita e critica questa enorme tragedia da un punto di vista storico e umano allora partiamo con l'era del testimone di annette vievi orca lei è una storica francese che ha pubblicato diversi lavori sulla shoah e sul sulla storia degli ebrei lei è appunto una si occupa di questo il suo è un vero e proprio lavoro scientifico teorico storico poiché appunto lei è una storica ma è affronta il problema la tragedia da un punto di vista storico ma anche da un punto di vista estremamente sensibile e umano proprio perché il connubio perfetto dovrebbe essere questo e citando il libro la scrittura della storia non può essere realizzata senza testimonianze ma la storia non può essere scritta nemmeno senza gli storici e si parte proprio della ricostruzione delle prime testimonianze vi faccio un esempio il ghetto di loz in cui a partire dal 1941 vennero scritti dei dei bollettini che presentavano in qualsiasi lingua erano stati scritti presentavano tutti le stesse rubriche quindi ad esempio il il tempo in quel ghetto le nascite i decessi i suicidi le persone uccise le direttive tedesche e se l'ultimo e se il primo bollettino risale al 1941 l'ultimo risale al 1944 e c'è anche una rubrica che si intitola voci ossia appunto delle storie che hanno un fondo di verità ma anche un po sono romanzate e alcune voci vengono espressamente diffuse dai tedeschi altre invece sorgono spontaneamente oltre agli archivi dei ghetti ci sono pervenuti per via anche un po strane i diari alcuni sono stati sono diventati molto famosi come i diari come il diario di anna frank altri invece purtroppo sono morti insieme all'autore il fulcro di questo di questo libro è diciamo un è la presa di coscienza del fatto che queste testimonianze questi sopravvissuti sono stati ascoltati non subito ma soltanto durante e dopo il processo eichmann quindi siamo negli anni 60 la legittimazione del racconto dei sopravvissuti incomincia soltanto in quel periodo eichmann era un ex ss ritenuto uno dei principali responsabili dell'omicidio di milioni di ebrei e fu processato a gerusalemme nel 1961 se ripercorriamo anche ad esempio la storia dell'edizione di se questo un uomo di primo levi nel 1947 fu rifiutato più e più volte comunque fu buttato giù più o più volte successivamente furono stampate poche copie ma il successo di se questo un uomo nasce soltanto negli anni 60 alla fine degli anni 50 e inizio gli anni 60 e questo quindi ci fa capire quanto prima di questa di di questo periodo era mancata totalmente la volontà di ascoltare i sopravvissuti come se si volesse mettere una pietra sopra la via viorca affronta anche da un punto di vista storico ma mai noioso tutto il processo in gran parte del processo eichmann soprattutto la parte dei testimoni ed è un libro veramente molto molto interessante e anche un altro suo libro che voglio consigliarvi si intitola auschwitz spiegato a mia figlia sempre di annette via viorca questo sicuramente è dedicato principalmente ai ragazzi molto giovani magari delle medie e nasce da un episodio reale cioè nel senso è autobiografico accade che durante un'estate durante una vacanza annette suoi figli e matilde incontrano bert una amica di annette nonché sopravvissuta matilde conosce bert soprattutto perché sua mamma e la donna si sentono molto spesso al telefono e si intrattengono discutendo circa le varie manifestazioni riguardo al genocidio e agli ebrei matilde parla anche al telefono con bert e la conosce sa cosa ha vissuto eppure quando la vedono in spiaggia in costume matilde vede il numero tatuato sul braccio sinistro di bert e subisce un vero e proprio shock e da lì in poi a inizio inizio tutta quella serie di domande che fanno i ragazzi bambini alla quale annette cerca di rispondere da un punto di vista anche qui storico ed umano lei è molto brava a fare ad esprimere questo connubio mi piace veramente molto quindi vi consiglio anche questo libro per comprendere meglio storicamente e umanamente cosa questa tragedia immane e poi vi propongo l'inferno di Treblinka di Grossman lui è stato un giornalista e uno scrittore nato in Ucraina di famiglia ebrea che racconta l'inferno di Treblinka Treblinka era il nome di una stazione vicino Varsavia piccolina e desolata in cui però durante la seconda guerra mondiale arrivano numerosissimi treni di deportati che giungono al campo di concentramento di Treblinka che è una copia di Auschwitz con la differenza che Auschwitz è un campo di lavoro Treblinka è un campo di sterminio quindi lì i deportati arrivano e muoiono e Grossman infatti descrive tutto il leader tutto il viaggio con un'estrema puntualità che dall'arrivo alla stazione portava poi i prigionieri fino alla morte descrivendo anche le tecniche utilizzate dai nazisti anche le tecniche psicologiche contro i prigionieri tecniche che consistevano nel convincerli che non sarebbero morti che quello era un campo di lavoro e che magari di lì sarebbero potuti uscire vivi per poi portarli alla morte ecco questo era un gioco psicologico estremamente sottile e terribile che facevano i nazisti altro libro sicuramente da leggere è la banalità del male di Anne Arendt anche lei filosofa e storica tedesca poi naturalizzata statunitense la banalità non è riferita al male ma è riferita alle persone che fanno del male che hanno fatto questo male nel 1961 infatti a gerusalemme Anne Arendt partecipa al processo Eichmann come corrispondente del The New Yorker ed è lì che uscirà questo suo resoconto inizialmente resoconto che poi oggi si è sviluppato e ha cresciuto nel libro che leggiamo oggi La banalità del male lei si rende conto che Eichmann sembrava un uomo normale cioè si rende conto che la società di quel tempo aveva creato delle personalità totalmente prive di idea totalmente prive di senso critico ma invece ricchi di uno spirito di un forte spirito di ubbidienza lei non li definisce stupidi ma li definisce diciamo banali tanto che la cosa più diciamo inquietante è che questa banalità questo mostro disumano che è Eichmann sarebbe potuto essere in realtà chiunque anche un'altra persona perché non era il profilo di un solito omicida, di un solito assassino e lei riflette appunto su questo argomento in maniera anche qui storica e umana questi sono sicuramente dei libri da affrontare oltre a leggere il diario di Anna Frank e se questo è un uomo che sono dei libri sicuramente importantissimi affrontare questo argomento anche da un punto di vista storico è importante proprio per quello che vi dicevo all'inizio per rendersi conto anche da questi punti di vista di cosa effettivamente è successo e per questo è che vi propongo La notte di Elie Wiesel questo è un romanzo autobiografico Elie Wiesel è stato deportato insieme alla famiglia ad Auschwitz fu poi separato dalla madre e dalle sorelle e rimase con il padre in un altro campo di concentramento e il padre morì ucciso da un colpo di pistola da parte di un SS poche settimane prima della liberazione si tratta qui di un tipo di testimonianza però diverso per questo ve lo propongo solitamente i testimoni sono spinti a appunto testimoniare a esporre la propria testimonianza da una ragione principalmente storico documentaria in Wiesel il testimone invece assume dei connotati messianici lui stesso utilizza questa frase e questo lo riconosciamo in una delle figure delle scene centrali del libro in cui il giovane Wiesel si sente di aver perso la fede in Dio si chiede dove si trova Dio ed è costretto insieme ad altri prigionieri ad assistere all'impiccaggione di un bambino e in quel momento si chiede ma dov'è Dio in tutta questa tragedia dice di aver sentito una voce interiore che gli diceva Dio è proprio lì è proprio sulla forca quindi la sua intestimonianza ha un'impronta molto spesso mistica lui stesso infatti ha detto in un articolo vi cito testuali parole l'olocausto trascende la storia è l'evento ultimo il mistero ultimo che non potrà mai essere compreso o trasmesso e i morti in possesso di un segreto che noi estri viventi non possiamo e non siamo degni di conoscere quindi per Hedley Wiesel gli unici a poter comprendere a poter parlare di quello che è successo sono i testimoni mettendo da parte appunto la figura storica la figura di uno storico e Hedley Wiesel vuole cercare di trasmettere appunto questo senso mistico questo senso sacrale e religioso della sua esperienza perché lui riconosce al suo ruolo una funzione messianica come abbiamo detto e questa cosa da un lato è un po' negativa perché se da un lato il testimone può raccontare la sua esperienza esattamente come la sua mente lo ricorda dall'altro però non è diciamo giusto imporre la sua lettura sacralizzante dei fatti proprio perché non tutti i deportati erano ebrei e non tutti gli ebrei deportati erano osservanti Hedley Wiesel è stato comunque una figura di spicco nel tramandare appunto la sua tragedia soprattutto in America e quello che accadde intorno a questo libro è qualcosa di un po' particolare perché lui per dieci anni non scrisse nulla non volle parlare della sua esperienza e poi scrisse un manoscritto di più di 800 pagine in yiddish pubblicato poi in una versione di poco più di 200 pagine con il nome non ricordo e il mondo rimase in silenzio vediamo qui come da un manoscritto di 800 pagine un manoscritto di 800 pagine si riduce ad un libro di 200 pagine quando poi in Argentina conosce Muriac quest'ultimo lo convinse a scrivere per un pubblico più vasto quindi anche con l'aiuto di Muriac che era un famoso romanziere ci fu difficoltà nel trovare l'editore e il libro venne pubblicato anche qui negli anni 60 come dicevamo prima in un'edizione di poco più di insomma di 170 pagine se non ricordo male con il titolo La Notte quindi tutto questo giro ha causato la perdita di gran parte della sua testimonianza che lui scrisse appunto pochi anni dopo la tragedia pochi anni dopo essere stato deportato e ovviamente il tono cambia la scelta di voler creare un libro per un pubblico più vasto ha comportato anche il cambiamento di tono il cambiamento anche a volte di senso nelle cose che lui aveva scritto nel manoscritto redatto in yiddish quindi questi erano un po' i cinque libri che vi consiglio di leggere per affrontare l'argomento fatemi sapere se qualcuno di questi vi ha interessato io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia o vi sia stato utile e io vi mando un saluto e vi aspetto al prossimo video ciao ciao